E' stato recuperato dopo diverse ore di ricerche in mare il corpo di Egidio Benedetto, l'operaio 63enne di San Salvo che è morto a seguito dell'incidente avvenuto sulla piattaforma Barbara F a largo di Ancona. Il cadavere è stato localizzato nella cabina della gru con cui stava lavorando ad una profondità di 70 metri. La notizia si è sparsa velocemente nel centro del Vastese. Questo è il commento di chi lo conosceva. Io sono da 40 anni che ho il bar, l'attività qua nella zona in via Ripalta e lui abitava proprio una traversa dopo di noi e veniva sempre, quando stava qua veniva sempre, era una bravissima persona, un carissimo conoscente, amico. Scherzavamo sempre dell'inder perché lui era come me, l'inderista, insomma, raccontavamo sempre qualche cosetta dell'inder. Sapevo che lavorava sulla piattaforma perché sulla piattaforma ci sta anche un cugino di mia moglie che lavoravano insieme. Di fatti oggi abbiamo preso la notizia verso mezzogiorno. Poi quando ho visto le iniziali ho subito immaginato che era lui Egidio. Sicuramente siamo rimasti profondamente sconvolti perché non si aspettava nessuno. Una beffa del destino e la sua morte. Da quanto si apprende, l'operaio con esperienza ultradecennale domani avrebbe dovuto lasciare la piattaforma a conclusione del periodo di lavoro. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro i gnoti. Nell'incidente sono rimaste ferite anche altre due persone. Si tratta di due operai di 52 e 47 anni. Entrambi sono stati ricoverati presso l'ospedale Torrette di Ancona. Il primo con prognosi riservata, il secondo con una di 30 giorni.